Ben ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura subito parliamo di cronaca, andiamo subito a sentirci allora il primo servizio. La gente dovrebbe capire che al di là dei dpcm e ordinanze varie ci vuole un po' di conoscenza, di convincimento che la malattia esiste. Finché non saremo vaccinati e la malattia non sarà debellata, siamo a rischio. Parole amare quelle del dottor Lucia Brollo che fanno seguito a quelle ancora più sconfortanti, dette per confermare quelle che si temeva dopo l'aumento dei contagi nel Veneto orientale. Il reparto di medicina sarà chiuso e a breve potrebbe riaprire un altro reparto di malattie infettive del Covid Hospital di Jesolo. I numeri d'altra parte parlano da soli, i contagianti complessivi nel territorio della Ulse 4 sono saliti a 1.040. Erano 816 neppure una settimana fa e 531 dalla settimana precedente. Il comune più colpito è Porto Gruaro con 166 contagiati da 129 della scorsa settimana, seguito da Jesolo con 152 e Sandonà con 144. I ricoverati sono complessivamente 35, 2 in terapia intensiva tra Sandonà e Porto Gruaro, 20 in malattie infettive, 13 alla stella marina di Jesolo. Attualmente nel reparto di medicina abbiamo ancora 5 pazienti, spiega il dottor Brollo, 15 posti letto disponibili. In questi giorni dovremmo dimetterli e nel frattempo non ne accogliamo altri. Siamo pronti ad un'eventuale nuova apertura di un altro reparto di malattie infettive che potrebbe avvenire già in settimana. Preoccupa dunque l'aumento, ma anche il quadro clinico. La situazione sembra in una evoluzione non positiva. Stiamo aumentando i ricoveri e con gente giovane. A proposito di quest'ultimo aspetto, quello che è strano, è che vediamo gente sempre più giovane che si ammala, con malattie difficili da gestire e un quadro polmonare più grave rispetto alla prima volta. Per Brollo potrebbe non dipendere direttamente dalla variante. Abbiamo avuto delle varianti, ma si dice non sia più cattiva degli altri virus, ma più diffusa. Considerato quello che si poteva ipotezzare a Cadesse, non è stato prematuro dunque riaprire il reparto di medicina. In quel momento era giusto procedere così, spiega. Considerato il numero giusto esiguo di ricoverati, la cosa ci ha permesso di spostare il personale in altri reparti e comunque fin da subito si è detto che saremo stati pronti a un'eventuale nuova riapertura. I contagi sono in aumento, però la situazione va monitorata di giorno in giorno e di conseguenza viene valutata la decisione da prendere anche per terapia intensiva. Per il dottor Brollo quanto è accaduto da quando l'Italia o la maggior parte del paese è ritornata in zona gialla faceva presagire a un nuovo aumento. La zona gialla è stata interpretata dalla gente come di libera tutti. Devevamo che in tempo tre settimane sarebbero ricominciati i contagi, come poi si è verificato. Per quando c'è un assembramento poi succede esattamente questo. Non si tratta di avere la sfera di cristrallo e noi tutti speravamo che non dovesse succedere, però i segnali c'erano tutti. Chi non è del mestiere non lo capisce ancora, ma finché non ci saremo vaccinati la malattia non sarà debellata. Siamo a rischio. Fare o non fare certe cose, comportarsi o meno in un certo modo, fa la differenza. Per il nostro comune è una giornata di lutto. È morto ieri sera di Covid il signor Calzavara Doriano Loris, di San Giorgio al Tagliamento. 59 anni. Lascia due figli di poco più di 20 anni, i quali erano già orfani della madre, morta alcuni anni fa. Una situazione veramente difficile. Ho potuto chiamare stamattina la figlia ed esprimere da sindaco, ma anche da padre, da nonno, da cittadino, tutta la vicinanza mia, ma ritengo di tutta la comunità, per questa famiglia che è stata così duramente colpita. Tante conoglianze. Il virus continua a circolare in maniera importante. In due giorni abbiamo avuto 23 persone che si sono positivizzate, che si sono infettate. Dobbiamo quindi fare tutto quello che abbiamo sempre fatto, ma farlo ancora meglio, per evitare il propagare del contagio, igienizzazione delle mani, distanziamento sociale, uso corretto della mascherina, areggiare i locali fin tanto che è possibile. In questo periodo l'USL ci ha mandato delle comunicazioni. La prima ci ha detto che 5 persone dell'anno 1941 non sono state contattate perché gli è stato impossibile farlo e quindi non sono state vaccinate. Andremo noi, presso l'abitazione di queste persone, ad informarli della possibilità di fare invece il vaccino. non saranno inseriti in una lista apposta. In queste ore stiamo altresì contattando i nati nel 1940, esattamente quelli nati tra il 7 marzo e il 20 maggio 1940, di cui noi abbiamo la lista, ma che purtroppo ancora non sono stati raggiunti dalla lettera di comunicazione dell'appuntamento. Ebbene, queste persone devono arrecarsi presso l'Isgate Park il 3 di marzo. Fortunatamente adesso abbiamo anche gli orari e quindi i due dipendenti comunali che proprio in questi momenti stanno raggiungendo queste persone andranno a comunicare appunto questa data e questi orari. Fate attenzione, i dipendenti comunali non entrano mai nelle case, quindi hanno la macchina del comune, nessuno vi chiederà da parte nostra di entrare in casa. Lo dico a queste persone anziane, ma lo dico anche ai loro parenti, amici o vicini di casa. Ecco, è importante. Io non voglio aggiungere altro, dico sempre che il comune è qui, è disponibile, telefonate se ritenete necessario, mandate una mail al sindaco chiocciolacomunesanmichele.it e cerchiamo di fare tutto il possibile per stare vicino alla nostra gente. Dai 19 casi di contagio della settimana, dal 16 al 22 febbraio, si è passato i 45 casi dell'ultima settimana, dal 23 febbraio a ieri. Il numero più che era doppiato nel giro di pochi giorni ha fatto registrare un aumento della curva dei sastinesi contagiati, come risulta nel grafico dell'azienda sanitaria periodicamente inviato al sindaco. La tendenza, dice il primo cittadino Matteo Capelletto, è che i contagi sono ripresi rispetto alle ultime settimane. Nella settimana, in particolare dal 9 febbraio a 15 Sanstino, aveva registrato 8 contagi, il numero più basso dallo scorso ottobre. Il sindaco però tende a non dramatizzare. La ripresa dei casi di contagio dell'ultima settimana, spiega, è in linea con gli aumenti che si sono verificati in altri comuni del Veneto orientale, così come i casi a Sanstino sono diminuiti nelle settimane quando anche in altri comuni si sono ridotti. Cercare di capire i motivi che possono spiegare la ripresa dei contagi a Sanstino degli ultimi giorni è in assenza di certezza. Lo si può fare solo per ipotesi. Dando per scontato, evidenzia Capelletto, che i sastinesi abbiano adottato comportamenti anti-covid corretti, penso che una spiegazione si possa trovare nel fatto che Sanstino è crocevia di numerosi scambi sociali. C'è una elevata mobilità di persone, sia in stazione come al casello autostradale. Magari anche qualche variante del virus può fare la differenza nella diffusione. Filora non ci sono segnalazioni in particolare di contagio che provengono dalle scuole, che sono tutte aperte. Non ci sono casi di contagio neanche la casa di riposo o Giulianello, dove si sono completati i tamponi agli ospiti e al personale, con il risultato che tutti sono negativi. Dei 45 casi di contagio conteggiati nell'ultima settimana, nessuno è grave. 43 sono curati direttamente a casa, mentre due sono ricoverati in ospedale e curati per le patologie pregresse. Inoltre, analizzando i casi, risulta che non ci sono concentrazioni di contagi in gruppi di lavoro, di studio o di famiglie. Dal mese di ottobre scorso, data d'inizio della seconda ondata, fino a ieri, i casi Covid al Sastino sono stati in tutto 958, l'8% circa, della popolazione sastinese. Trambusto nell'affolamento l'altro pomeriggio nel centro di Oderzo, in Via Umberto I, un giovane si è rifiutato di indossare la mascherina. Davanti al suo intransigente rifiuto ai successivi atteggiamenti ostili che ha dimostrato nei confronti delle forze dell'ordine, il 26enne è stato accompagnato in caserma e si è ritrovato colpito da una denuncia a piede libero per resistenza pubblico ufficiale. E' accaduto ancora l'altro pomeriggio nei pressi del ponte del Gattolè, dove inizia Via Umberto I, nel centro della cittadina. Il giovane 26enne, italiano, residente in un comune di Orpitergino, non stava indossando la mascherina mentre si trovava per strada, in quel momento gremita di persone. Il suo volto, scoperto, non è sfuggito ai militari dell'esercito, che da molti mesi ormai sono distanza a Oderzo e pattugliano il territorio insieme ad altre forze dell'ordine. I militari sono agenti di pubblica sicurezza, hanno avvicinato il giovane, invitandolo a indossare la mascherina. Ma lui si è rifiutato, al che i militari gli hanno chiesto i documenti, ma il giovane non ha voluto esibirli e a quel punto hanno chiesto supporto ai carabinieri. E' arrivata una pattuglia, che era impegnata in controlli, e anche ai carabinieri il giovane ha continuato ad opporre rifiuti, assumendo atteggiamenti ostili. A quel punto gli investigatori dell'arma lo hanno accompagnato in caserma, nella tenenza di Via Garibaldi, dove è stato denunciato l'autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono Oderzo su disposizione del prefetto, aiutano le forze dell'ordine nella tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. In questi ultimi fine settimana i controlli della polizia locale, carabinieri e militari si sono intensificati anche per verificare che vengano osservate le disposizioni sulla pandemia da Covid-19. Secondo lei, da questo momento di difficoltà, di estrema difficoltà per il comparto, potrebbero nascere e svilupparsi delle nuove opportunità? Io ne sono assolutamente convinto che il settore, se riuscirà a ripensare al proprio modo di fare turismo in un paese che il turismo, abbiamo sempre detto, ha costituito il 13% del PIL, sono assolutamente certo che ne uscirà ancora più forte di prima. La difficoltà adesso è quella di mettere in equilibrio le aziende che hanno queste potenzialità ma che fino adesso sono state impegnate a mantenere degli equilibri finanziari per cercare di restare e resistere sul mercato. Da domani in poi inizia una nuova sfida, anzi da oggi in poi direi inizia una nuova sfida che è quella appunto di riuscire a reperire le risorse necessarie che arriveranno necessariamente attraverso i fondi europei su tutto il nostro territorio, riuscire a intercettarle e calarle adeguatamente su quello che è il nostro comparto. La vostra categoria, Federalberghi in modo particolare, ha in qualche modo gioito, comunque ha preso con soddisfazione la decisione del Premier Draghi di istituire nuovamente il di Castero con portafoglio dedicato al turismo. Lei prevede di comunque incontrare il Ministro, comunque di chiedere di sedersi a tono a un tavolo per discutere anche della questione veneta? Beh, allora è chiaro che su questo noi ci confronteremo e ci relazioneremo anche con Federalberghi nazionale che è il nostro punto di riferimento. Da questo punto di vista è stato accolto con entusiasmo l'istituzione del Ministro del Turismo, ovviamente adesso otteneremo i passaggi necessari per la dotazione del portafoglio, come si dice in termine tecnico, e quindi con la monifica del titolo quinto della Costituzione che ne decreterà di fatto l'avvio dei lavori. E certo è un gran passo epocale sul quale contavamo e auspichiamo di poter presto dialogare con il Ministero per portare quelle che sono le nostre esigenze, le nostre istanze e soprattutto per riportare di nuovo al centro quello che è il comparto alberghiero, che oggi è il fiore a rocchiello non solo della Regione Veneto ma anche di tutto il territorio nazionale, ma anche con la responsabilità che la Regione Veneto ha sulle spalle, che nel pre-Covid costituiva essere la prima Regione per numero di presenze e che possa diventare anche la prima Regione in termini propositivi per la ripartenza del nostro settore. Luigi Toffolo è il nuovo segretario di sezione della Lega a Porto Gruaro, l'erede di Mattia Dalben, attuale vice sindaco e assessore allo sport e il medico di base ed ex assessore ai servizi sociali della Giunta Senatore. Militante in Lega dal 2017, Toffolo era uno dei nomi dati per certi per entrare nella nuova Giunta Favero. Gli equilibri da mantenere a seguito dall'apparentamento con l'ex sindaco senatore da un lato e la necessità di garantire le quote rosa dall'altro avevano poi indotto il primo cittadino a tenerlo fuori dall'esecutivo. Una decisione che Toffolo aveva accettato serenamente ribadendo di essere a disposizione del partito e della squadra porto-ruarese della Lega. Ora per lui è arrivata la nomina al segretario di sezione. Con l'aiuto di tutti, ha detto Luigi Toffolo, cercherò di far crescere il partito facendolo conoscere sempre di più al territorio. Stiamo vivendo un momento molto grave della nostra storia e credo che oggi il nostro principale compito sia quello di aiutare la nostra comunità a superare nel miglior di modi possibili le tante sofferenze fisiche e psicologiche che sta patendo, senza dimenticare le gravi difficoltà economiche che molte persone e famiglie stanno vivendo. La nostra sezione oggi gode di ottima salute e in questi tre anni, ha aggiunto dal ben, si è lavorato in modo affiatato, la sezione è cresciuta sotto ogni punto di vista e lo si è visto anche con le ultime elezioni in cui la Lega ha raggiunto un risultato storico come primo partito. Non sono sempre stato un forte sostenitore del lavoro di squadra, convinto che la differenza la faccia il gruppo. Luigi è una persona seria, preparata e con esperienza, che sarà sicuramente il proprio contributo facendo crescere ancora di più la sezione e il gruppo. Una vaschetta di legno scuro. Che cosa di meglio abbinarla se non a una primula gialla? Perché i fiori in giardino sono meravigliosi, ma i fiori al giardino stanno come i colori di un pittore a un bel quadro. Non basta avere dei bei colori, bisogna anche abbinarli fra di loro, cioè dar loro lo giusto sfondo. Se questa primula fosse messa in un vaso di plastica bianca o un vaso di, non lo so, va di moda qui, cementini grigietti, il giallo smuore. Invece, di fronte a un marrone scuro, ecco che questo colore si evidenzia. Quindi quando siete in giardino e pensate a qualcosa di bello, pensate anche allo sfondo che lo valorizzerà. Ah, un'altra cosa. Le primule sono le piante ideali per il belcone da febbraio ad aprile. All'aprile cominciano un pochettino a sfiorire, ma però si possono conservare, cioè si possono piantare in giardino, in un posto soleggiato. Gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna. I nostri servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24. Ci fermiamo con questa edizione, torneremo con le altre nel corso della giornata. Rimanete con noi. Alla prossima. Grazie. Grazie.